Ecco qua la mia casetta, spero che vi piaccia, secondo me è più bella da fuori perché da dentro è un pochino deludente Come potete vedere eccola qua, la mia casa non è arredata benissimo, ha anche un piano sopra Qui c'è la mia stanza che come potete vedere fa un po' pena, ve l'ho detto che è più bella da fuori che da dentro Vabbè io direi intanto di avviarmi, intanto penso che abbiamo preso tutto, va bene Ah, ciao casetta, ci vediamo non so quando Ah ragazzi sono tornato sano e salvo fino a casa finalmente, ok, rieccoci a casa, lasciate un... mi piace?